Provincia di Ragusa si vota il 6 e 7 maggio per il rinnovo del Consiglio e del Presidente e i partiti si muovono già alla ricerca di candidati e alleanze. Di sesto finanziario accomiso, la vendita dei beni alienabili di proprietà comunale permetterebbe di non aumentare le tasse a carico dei cittadini. Punta secca, spari contro il portone di un ristorante della frazione, sull'episodio indagano i carabinieri e il nucleo radiomobile di Ragusa. Ragusa, amianto e i rischi che si corrono ogni giorno, se ne è discusso questa mattina alla Scuola Regionale dello Sport. Un cordiale benvenuto ai nostri telespettatori, ben trovati con l'edizione di Free News. In apertura torniamo ad occuparci delle province. Sembra ormai certo che il prossimo 6 e 7 maggio si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio e del Presidente. Dopo la confusione creata in questi giorni dal documento della prima commissione all'ARS, che proponeva la modifica delle province in enti di secondo livello, ieri è arrivata la notizia dell'inserimento dell'ente di viale del Fante nella lista delle province chiamate al voto. Ma sentiamo il servizio. Il 6 e 7 maggio la provincia di Ragusa andrà al voto per il rinnovo del Consiglio provinciale del Presidente. Ed ieri la notizia è che i cittadini blei saranno chiamati ad esprimersi nella tornata elettorale, prevista appunto per il prossimo 6 e 7 maggio. I tempi per valutare il documento della prima commissione all'ARS, che proponeva la modifica delle province in enti di secondo livello, non ci sono più. E il testo sarà dunque ritirato e non discusso in aula. La notizia delle possibili elezioni arriva come un fulmine al cestereno per le forze politiche, che oramai avevano smesso di cercare candidati per le liste e per la carica di Presidente. Visto il continuo evolversi della situazione, il PDL blei, attraverso una nota dei due coordinatori provinciali, gli onorevoli Innocenzo Leontini e Nino Minardo, ha chiesto ai coordinatori regionali, l'onorevole Giuseppe Castiglione e il senatore Domenico Nania, di rinviare lo svolgimento del congresso provinciale dal 3 marzo al successivo 10 marzo 2012. Dunque tutti i partiti, presi alla sprovvista, si stanno rimettendo in moto. Alla ricerca di candidati e di alleanze. E sentiamo nel prossimo servizio chi potrebbero essere i candidati alla poltrona più ambita di Viale del Fante ed aspiranti successori del Presidente Franco Antoci. Sentiamo. Si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale e i partiti tornano in fermento. Nel centrodestra i papabili candidati per la successione di Franco Antoci sono tre, tutti in quota PDL, ovvero l'attuale Vicepresidente dell'Ente Momo Carpentieri in pole position, mentre l'ex assessore al territorio ambiente Salvo Mallia, dimessosi dopo la bocciatura del decreto salvaparenti per la presenza in Consiglio del Fratello e il Presidente del Consiglio provinciale Giovanni Occhipinti, stanno perdendo quota. Nel centro-sinistra i nomi che circolano sono quelli di Gianni Battaglia, ex senatore, e di Salvo Zago, attuale segretario provinciale del PD e consigliere comunale di Comiso. Bisognerà vedere se gli altri partiti della sinistra accetteranno uno dei due candidati o se decideranno invece di intraprendere un percorso alternativo con un proprio candidato. Infine il terzo polo, ovvero Udc, Fli, Mepia e Api, è ancora alla ricerca del candidato e in queste ore non è da escludere che Grande Sud decida di schierarsi con il polo di centro che nella competizione punta quanto a meno ad essere l'ago della bilancia in un eventuale ballottaggio. E a proposito delle elezioni provinciali del prossimo maggio, abbiamo intervistato l'attuale Presidente della provincia di Ragusa, Franco Antoci, che ha accolto con favore la possibilità del mantenimento degli enti provinciali, anche se bisogna comunque attendere, ha detto Antoci, una conferma ufficiale da parte della Regione. Sentiamo allora l'intervista al Presidente. Se l'Assemblea regionale porterà avanti questo disegno di legge, portare avanti quello che abbiamo sempre chiesto noi, cioè una provincia che resta, che è valida, che assolve il ruolo per cui è stata creata, con in più altre competenze e altre incompense che in questo momento sono svolte da enti non democraticamente eletti, quali gli istituti autonomi e case popolari, gli ATO, i consorsi e così via. E quindi una provincia che resta, che svolge il suo ruolo di governo di aria vasta, ma che nel contempo contribuisce al risparmio dei costi della politica. Quindi se questo discorso andrà avanti e la prossima settimana sarà cruciale, noi canteremo vittoria. E quindi non posso dire altro che non... Ecco, che sono contento che si restituisca al popolo la sua potestà democratica di nominare i propri rappresentanti, i propri amministratori. E ci spostiamo adesso a Comiso. Ci occupiamo anche oggi del dissesto finanziario. Ieri, come ricorderete, abbiamo sentito l'opinione della gente sul possibile aumento delle tasse. Naturalmente l'idea non convinceva per nulla. Ma quali potrebbero essere le soluzioni per cercare di risanare le casse dell'ente senza gravare sui cittadini? Sentiamo questo servizio. Non gravare sulle tasche dei cittadini comisani. Un'amministrazione comunale che ha a cuore le sorti di una città e il bene dei cittadini non pensa ad aumentare le tasse come unica soluzione per risanare le casse. A questo proposito l'Aggiunta ha accantonato, o forse non ha mai considerato, l'ipotesi di vendere i beni di proprietà comunale. Una soluzione è questa che potrebbe portare per respiro alle casse comunali senza intaccare le tasche dei comisani. C'è da chiedersi perché strutture come l'ex Manifattura Tabacchi, per esempio, che è certamente un edificio appetibile, non vengano inserite nell'elenco dei beni allenabili. Ma a questo proposito dall'amministrazione comunale rispondono con un silenzio tombale. E dunque, che fare? L'Aggiunta preferisce aumentare le tasse e i tributi comunali. Aumento che non convince i comisani. E ci mancherebbe. Per i cittadini e le famiglie, come più volte già abbiamo sottolineato, si preparano tempi duri a causa dell'aumento delle tasse e del taglio di tutti quei servizi che non saranno considerati più indispensabili ed obbligatori per legge. Dunque, oltre il danno, anche la beffa. Perché è una via alternativa per coprire le dissesto c'è, ma manca la volontà politica. Certamente l'aumento delle tasse rappresenta la via più facile per il risanamento, ma anche purtroppo la più dolorosa per chi, come i cittadini comisani, non ha certo responsabilità dirette per gli errori causati dalla classe dirigente della città, se non quella di averle eletta. Dunque, l'unica strada percorribile per gli amministratori è quella delle tasse, ma bisognerà vedere cosa deciderà a questo proposito il Consiglio Comunale il prossimo de marzo, quando sarà chiamato ad esprimersi al tal proposito. Perché è bene ricordare che se verrà dato il via libera all'aumento delle tasse, non sarà possibile tornare indietro almeno per i prossimi cinque anni. E passiamo adesso alla cronaca. Spari contro un ristorante a punta secca. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri il nucleo radiomobile della Polizia del Capoluogo. Sentiamo. Spari contro la porta di un locale a punta secca. L'episodio è accaduto due notti fa e è stato denunciato ieri da due uomini che si sono presentati in caserma per denunciare i carabinieri di aver sentito degli spari durante la notte precedente all'altezza del locale. Sull'episodio stanno indagando i militari del Comando Provinciale di Ragusa e il nucleo radiomobile della Polizia del Capoluogo che hanno rinvenuto tracce degli spari contro la porta d'ingresso del locale, ovvero due fuori di proiettile e relativi bossoli. L'episodio si lega con un altro atto intimidatorio analogo verificatosi nei giorni scorsi ai danni di una ditta di costruzione in legno di Santa Croce. E in città e nella frazione famosa per la Casa di Montalbano ritorna la paura di possibili atti legati al racket, anche se le forze dell'ordine a questo proposito non si sbilanciano e conservano il massimo riservo sulle indagini. Proseguono i controlli da tempo avviati e predisposti dal questore di Ragusa, Filippo Barboso, mirati al controllo degli esercizi commerciali della provincia, nel corso dei quali è stato denunciato il proprietario di un locale a Ragusa. Vediamo. Verbale per illecito amministrativo e denuncia all'autorità giudiziaria per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. È quanto è stato elevato dagli agenti della pulizia amministrativa della questura al titolare del Justin di Ragusa, locale nel quale veniva svolta, con la sola licenza di somministrazione senza alcuna autorizzazione, una serata danzante, alla quale stavano partecipando numerosi giovani. Il questore di Ragusa, Filippo Barboso, ha emesso inoltre nei confronti del titolare del locale ragusano un provvedimento amministrativo di immediata cessazione dell'attività, condotta senza autorizzazione. Questo intervento si inserisce in un più vasto programma di controlli, da tempo avviati e predisposti dal questore Barboso, mirati alla sorveglianza degli esercizi commerciali della provincia, al fine di prevenire e stroncare sul nascere ogni situazione di illegalità e garantire l'ordine pubblico. Le fiamme gialle di Ragusa hanno scovato un falso povero che, attraverso una falsa attestazione, ha tentato di usufruire di prestazioni sociali agevolate a carico del bilancio nazionale. Si tratta di un giovane di Chiara Montegulfi, i cui redditi indicati erano di gran lunga inferiori a quelli effettivi. Nei suoi confronti è scattata una denuncia penale per violazione del decreto presidenziale 115 che disciplina la materia del gratuito patrocinio legale a spese dello Stato. Ed è tutto per questa prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Rimanete con noi. Grazie. Grazie. Grazie.